Una formula ad esempio c'è, noi lo diciamo sempre, che sia una proposta di legge anche firmata da Miano, noi siamo disponibili a sostenerla pur che si ponga definitivamente e non gradualmente come stiamo facendo ormai, quasi fosse un rosario da sgranare tutte le volte, soluzione al problema dei suoi dati e ancora di più alla questione flessibilità, parlavamo prima e sentiamo l'esperienza di chi ha iniziato a lavorare a 15-16 anni e la questione reale è quella delle coperture, perché se anche le salvaguardie come quelle messe a bilancio e poi tolte nel mese passato, 500 milioni spariti e rimessi dentro nel bilancio generale dello Stato, se mancano queste risorse vuol dire che realmente la volontà da parte del governo non c'è, al di là appunto di disegni di legge che possono avere un significato come quello dell'onorevole Damiano, qui la questione è quella di parlare chiaro ai cittadini, o si fa un progetto di legge serio che vada a rimodulare e come lo diciamo a togliere completamente quello che è stata l'impostazione della Fornero, oppure significa solo prendere tempo e questa anche parola terribilmente soft, aspettativa di vita comincia a prendere un certo significato, il tempo passa, le persone se ne vanno e il problema pensionati e esulati si risolve da solo.